L'Italia e la Francia hanno anche una responsabilità comune nei confronti dell'Europa. Abbiamo bisogno di un'Europa forte. È casa nostra. Non possiamo vincere le sfide da soli. E vorrei ricordare le parole di un grande scrittore francese, Victor Hugo, il quale ci ha detto 160 anni fa, quello è quello che ha detto. Il giorno verrà dove voi, Francia, voi Italia, voi Inghilterra, voi Germania, voi tutti, nazioni del continente, senza perdere le vostre qualità distinte e le vostre gloriose individualità, vi fonderete strettamente in un'unità superiore e voi costituirete la fraternità europea.